ciao questo è un nuovo video il solito degli acquisti manga nel manga e anche anche qualche come fumetto solamente due inizio con come sempre con con quelli dai di fumetti da ridicola e ho preso il numero 3492 dito il topolino che il topolino sto comprando da sempre e per adesso ho preso solamente il numero 36 di samuel stern l'uomo del buio che questo qua che essendo uno che come si dice che piacciono gli oro che così e come si dice che samuel stern è uno di quelli che ho iniziato come come fumette ho iniziato poco dopo quando ho cominciato a comprare a seguire magari di andor e ho visto che come storie siamo esterne mi sono sempre piaciuti fin dall'inizio e lo sto lo sto e lo sto continuando comprare fin da dall'inizio e niente anche se come si dice il volume 5 regolarmi deve ancora arrivare nel pacco che che mi diamo a spiegare però per adesso mi sono arrivate anche un po di variante ho preso anche cominciato ad arrivare il numero 5 di kajun e coloi la variante che con il cinque normali media ancora arrivare nella scatola che nel parco che mi dovrebbe ancora ancora sfidere manga mani e per adesso ho solo mettere la variante perché il numero 5 normale ve lo farò magari vedere nel prossimo video acquisti quando mi arriva arriverà al pacco che ho visto che già queste kajun le variante che sono usciti fino ad adesso soprattutto quella del numero uno e ho visto che sono molto belle con queste i riflessi che ci sono e niente che il calcio che fin dall'inizio mia per me mi ha piaciuto e lo stavo tipo continuando come se la stavo tipo continuando 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 a fare che la che in teoria quello che ho capito il numero 5 normale e come come quello che si vede sotto così di questo colore se può senza la sovracoperta senza sovracoperta però questa questa sovracoperta tutta con i questi i riflessi che si vedono e ho visto che è molto bella anche se costa mare in confronto al numero normale costa anche un attimino di più però adesso mi è arrivata come si dice solamente la la variante di di calcio e niente dopo ciò altre variante che ha detto altro perché mi è arrivato anche un pacco da da dopo questo che volevo aprire con voi poi assieme a caccio mi ha arrivato anche il anche il carattere il carattere book volume 1 di di demon slayer che mi è arrivato adesso che mi deve ancora che mi deve ancora perché nel pacco che mi dovrebbe arrivare mi deve ancora anche se è uscito assieme mi deve ancora arrivare il 21 normale e il 21 quello con le specie specie cartoline card assieme che ho preso due volumi color 21 normale e quello con le card dentro come il numero 20 poi mi deve ancora arrivare proprio adesso di demo slayer mi è arrivato mi è arrivato solamente questo con che ci devono essere delle stickers delle schede stickers stickers dentro e niente con il pacco da proprio storia anche se uno un volume come si dice un volume ve l'avevo detto che mi dovrà arrivare in un video acquisti che avevo già già fatto che avevo come si dice che abbiamo già fatto vedere che mi è arrivato il volume 2 di danta dann che mi doveva arrivare ancora con la variante si prende il numero 2 che ho preso sempre grazie a pop store che adesso volevo aprire il pacco proprio in video e che oltre la variante mi sembra che mi doveva arrivare anche qualcos'altro adesso vi faccio vi faccio vedere questo quello che mi è arrivato grazie alla alla pop store che mettono sempre questo involucro sempre con certe tavole di di fumetti e niente adesso adesso lo so e niente lo stavo aprendo per farvi farvi vedere oltre come si dice ah è vero che mi sono ricordato adesso che stavo aprendo che in questo volume di in questo come si dice in questo pacco di come si dice di proprio della pop store io me ne ricordavo due di va di variante po mi sono ricordato adesso che c'è anche a parte che mi hanno messo il segnali segnalivo segnalivo sempre l'orda da pop store ho visto che mi hanno messo anche se prima che mi avevo perché mi ricordavo che l'avevo messo dentro su sull'ordine di di manga mania il 21 ecco il 21 con le carte che mi hanno messo solo il 21 normale e mi è arrivato il 21 con l'ecolo con quello sempre limite di scioccoli con i gadget dentro e stick dentro il 21 di 21 di demo slayer che sicuramente adesso devo andare a controllare come si dice l'ordine su manca mania firenze se ho messo solamente il 21 normale o tutte e due il 21 normale e se ho messo un altro come questo qua limite di scioccoli e niente per proprio per adesso come avete visto mi è arrivato il 21 di demo di demo slayer e niente andando avanti che mi stavo come se la stavo facendo che anche se si erano fermati al numero 4 proprio che stava avevano fatto due due variante di questo di questa serie qua scusate se metto un attimo il passo che li vado a prendere che ve li faccio vedere tutti sì che io di questa serie qua avevo preso i primi i primi nomi che stava essendo un horror avevo preso un po' di tempo fa anche se ero si sono fermati al 4 però avevo preso i primi i primi quattro nomi di vampiri e princess princess e maio che sono questi qua i primi 4 però anche se un gole però quando avevo preso all'inizio avevo preso questa questa variante qua del numero 1 che numero 1 normale c'è questa copertina qua che avevo quando avevo preso questi quattro avevo preso anche questa variante qua del numero 1 l'altra volta mentre stavo guardando tra i siti per comprare qualcosa quando ho preso anche il numero 21 di di dimostrare il mercato di questa serie avevano fatto due di variante e sono riuscito a prendere anche 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 la seconda anche la seconda variante sempre del numero 1 che questa fa che è che entriare le variante del numero 1 sono queste queste due qua più quello normale quello normale numero 1 normale è questo qua che adesso sono riuscito ad avere queste due variante di questa di questa serie qua e spero che adesso che non che sono riuscito a recuperare anche la seconda anche la seconda variante e non come come serie non la fermeranno al numero 4 che spero che la continuano come se che ho visto che mi sta tipo che mi stava tipo mi stava piacendo e come ultima manga che come si dice che che vi avevo già fatto vedere il numero numero 2 normale e mi è arrivata grazie a pop store la variante e sempre lo è sempre sempre la pop store firmata anche games academy fanside e la variante del secondo volume di danda danna che ho visto che per adesso mi avevo l'ho letto solamente sono sono fermo al primo di volume e sembra carino come come storia con questo turbo nonna e volevo tipo continuare un attimo per vedere se merita che ho sentito anche parlare anche anche bene di danda danda che ho visto che molte lo stavano che lo stavano come si dice se come se la stavano seguendo confronto magari all'altra 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 magari se che stavo facendo io che di che che essendo sempre una storia di sempre di occulto di e di spettri ho visto che la stavano facendo più persone tantana di danda danda confronto questa qua che ho visto che ne ho sentito parlare meno di ghost girl questo qua ve l'avevo già fatto vedere nel video acquisti vecchio e gli ho dedicato anche un video a ghost girl e niente e per adesso quei volumi che avevo che ho preso fino a per adesso sono queste solamente solamente questi qua come si dice sono queste quasi dimostrare 21 da 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 la variante di cajourette la variante di vampire che sono che a fine ho preso in questo video volevo mettere solamente questi qua e sicuramente magari quando mi arrivano gli altri parchi faccio farò sicuramente uno quando mi arriva arriverà il pacco di manca mani a firenze o altri che dovrebbero essere sempre in arrivo farò sicuramente un è un altro video degli acquisti degli acquisti manga e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao